Per tante persone è strana avere una napoletana e Napoli a vincere, ma io capisco, perché pure per me è strano, quello che ci diciamo solitamente è che ha malotto ogni giorno per resistere e per gli annanzi nonostante tutto cosa. Massimo Troisi parlava spesso di stereotipo a Napoli, però non distruggevo mai chi è la negativa, estremizzava chi è la positiva e al finale facevo vedere che pure chi era un'invenzione e chi voleva che a Napoli fosse solamente una caricatura. A me pare che abbiamo buono solo quando siamo una storia già scritta, da bene e da male. Io ho capito quando ero caricatura, questa storia l'essimo potuto cagliare solo iniziando a vincere, sono profondi differenze tra nord e sud, anzi, fa una volta diciamo sud e nord, ma non per creare divisione, pure perché la musica vuole parlare tutto quanto, però alcuni pensano che questa disparità non è più un tema importante. O da grado sta a tutta parte, è vero, e non è una gara chissà peggio, è vero, ma non a me fa finta che è tutto risolto. Allora così io sono da dare in mani per sempre una carta sporca. O razzismo reale è le differenze. Quando è asciuto l'album mio, io ero prima nella classifica mondiale. Lo dico solo per far capire quando sono contento di essere diventato un modello napoletano vincente che troppo spesso mi è mancato. Ma che vuoi vincere a vincere. Come a vincere vorrei c'era a fare un monologo che aveva l'Italia. Vincere da lingue Basile, eduard, e Totò, ed Pino Daniele. Eh sì, pure Geliere. Ma Napoli e Napoletano si può affermare il loro talento e per la forza che tenere. E se c'è qualcuno non sta buono. Cioè, se c'è qualcuno avere un problema, rende a questo. Il problema, sapete, lo sto. Rendo specchio. Grazie. 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 Grazie.